Grazie, ecco finalmente il video sull'album 13 di Voroshin, vi faccio vedere velocemente un po' quello che c'è all'interno. Allora, abbiamo una trousse bellissima Makeup Days a 7,95€ all'interno con lo specchietto, questa cernierina, mettiamo tutti i prodotti da portare in giro, è veramente comoda. E la si potrà avere però acquistando un set indispensabile oppure tre prodotti della Color Nature, da pagina 4 a pagina 42. E ora vediamo all'interno, qui ci sono vari look che fanno vedere con i vari trucchi nuovi. Allora, nuovo mascara, volume vertige, primo applicatore riserva, modello depositato, questo è lo scovolino, 12,95€, 12 ore di tenuta in tre colori, blu, marrone e nero. Questo è assolutamente da provare, è un volume estremo, a me piace volume nelle ciglia, quindi lo prenderò sicuramente. Poi, 39 colori nuovi, tenuta 8 ore e sono tantissimi, guardate quanto sono belli, soprattutto in questa zona ragazze, vabbè. Ok, 9,50€ l'uno da 2,5 grammi, nuova texture in polvere e con lo specchietto ovviamente, bellissimi. Poi, primo look, questo è il look in questi colori, bellissimo. Ok, qua ci sono i vari prodotti della Color Fashion. E qua ti fanno vedere passo passo come preparare il viso, ci va il fondotinta fluido zero difetti, illuminante, poi cipria in polvere, ah no scusate, sì fondotinta, correttore, cipria in polvere, fard e basta. Questi sono i prodotti per fare un trucco perfetto. Ok, allora, questi sono vari prodottini, questi novità di ombretto mono, 9,50€, bellissimi anche questi. Qui ci sono i maschera, matita, rossetto, tocco di volume alle labbra gloss volume sexy e smalto. Questi sono tutti gli step per fare il look numero uno, tutti i prodotti che servono. Ed ha utilizzato questi prodotti, questo è il set indispensabile per poter avere la Trousse, 22,95€ con il mascara nuovo. E questi due ombretti, veramente belli, ok. Qui sotto ci sono gli accessori per il viso. Secondo look, questo è uno Smoky Glam, bellissimo, serve un correttore zero difetti, un illuminante, un cipria in polvere, un fard e ci siamo. Poi, ombretto, due colori intenso, stilo occhi waterproof, polvere perlata per gli occhi, il mascara volume vertige, rossetto grand rouge, gloss e smalto. E questo è il secondo set indispensabile a 19,95€ con lo smalto, l'ombretto e il mascara. E ci siamo. Terzo look, questo magnetico bellino con il fondotinta rimpolpante, la stilo correttore, cipria in polvere e stilo occhi, questo colore, due ombretti novità. 9,50€, il mascara sexy pulp, 12,95€, il rossetto grand rouge e lo smalto brillante. Ed è questo il set speciale per voi, per creare questo look 3, il stilo, il grand rouge rossetto e l'ombretto. Poi, look romantico, abbiamo tutti questi prodotti. Ora vado avanti perché sennò vi è notte. Qui ci sono gli ombretti novità, rossetto e smalto. E questo è il set indispensabile a 19,95€. Vari pennelli e pinzette, va bene. Il sweet cannelli, questi prodotti da utilizzare, anche la terra abbronzante. Poi, ombretto novità, questo mascara che è il moltiplicatore di volume e altri prodottini sempre della linea. Poi, 19,95€ il set. Quindi, l'ombretto, la stilo occhi correttore e la matita occhi 3 in 1. Quest'altro, che devo dire che è il migliore, è il look passion turquoise. E ci vuole il fondotinta, la cipria, la stilo, la matita 3 in 1. L'ombretto, il lumino allo sguardo, 11,95€. L'ombretto mono nuovo, 9,50€. Il volume vertige mascara. Il rossetto gran rouge. E questo è il set, 19,95€. Con questi ombretti e questo a stilo. Ok, poi andiamo avanti. Questi sono i prodotti color nature per poter appunto prendere quella tosse. Potete scegliere tre prodotti da color nature. Questi qui, che vedete. Ok. Poi andiamo avanti. E vediamo se c'è qualche novità. Qui c'è sempre idra vegeta, ok. Ok, creme viso, pure system, trattamento pali sensibili. Ok, tanti altri prodotti già visti. Vabbè, queste sono le maschere gommigella albicocca. Maschera fruttata, prendetele, sono buonissime. Qui tutte le linee anti-age, global. Sono in ottimo sconto, ve le consiglio. Ok, poi c'è la novità. Il common evidence, intense. Eccolo qui. E la profumazione, che la devo ancora sentire. Poi si va avanti, sempre cremi anti-età. In sconto, prendetele, veramente sono ottime. Poi andiamo avanti e vediamo se c'è qualche altra cosuccia nuova. Mi sembra che le novità erano all'inizio. I profumi, dove ci ho fatto vedere. Le linee varie, fantastiche. Questa è in edizione limitata, sono tornati fuori. Prendeteli perché vi assicuro che vi piaceranno. Questo qua sta di yogurt da mangiare. Questo è fantastico, molto buono. Poi ci sono i deodoranti, a 3,95. I gel doccia sono tornati a 2,50 euro. Buonissimi però. Varie cose riducenti, vari integratori sempre da prendere. Gli shampoo sempre, balsamo a solito prezzo. Linea nuova per i ricci, linea nuova per i lisci. Anche qui gli altri shampoo che abbiamo già visto e rivisto. E nulla. Direi che le novità... Ah beh, c'è uno di questi prodotti che si è scelta. A un euro si acquisterà un prodotto di questa linea per le mani. Che oltretutto sono anche sconto a 2,95 euro il pezzo praticamente. Stessa cosa, un prodotto a 1 euro per i piedi. Si si acquisterà uno di questi nella linea lavanda. Buonissima. E per finire, tutte queste cose qui che io non uso. E la nuova linea bio, fantastica. Vi dico che la crema è buona per le mani. Io ce l'ho. E questo lo devo ancora provarlo, però è fantastico il profumo. Linea nutriente per le pelli secche. E per finire, a 1,95 euro i balsamo labbra, sia nutrienti che profumati e fruttati. Vi consiglio anche questi perché verso l'inverno ci si secca le labbra. Bene, questo è tutto ragazze. Spero che vi sia piaciuto il video. A presto. Grazie. Grazie.